Sacrificio, passione, adrenalina e desiderio di vittoria. Solo così posso riassumere una delle esperienze più belle della mia vita. Vincere la medaglia d'ora squadre a mondiali di Endurance a Dubai nel 2005. Una sensazione unica nel percorrere quei 160 chilometri nel deserto in sella la mia prestigio, Atena. Ho trasmesso a mia figlia tutto quello che so dell'Endurance. Lei è già campionessa europea. Il mio nome è Gianluca Laliscia e Costanza è mia figlia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.